Allora, buongiorno, siamo qui con Elisa Maino, un ritorno nel nostro blog perché abbiamo già fatto un'intervista con lei, avevamo prospettato l'idea di una proposta cinematografica e alla fine è arrivata in forma di documentario. Allora Elisa, innanzitutto parliamo del documentario. Come è andata, come è nato prima di tutto e come sono andate le riprese alla fine? Beh, è nato per ricordare in parte il tour di Ops, quindi il tour con il libro e anche per mostrare un po' quello che è il backstage della mia vita, per non mostrare solamente il personaggio della Maino con le foto e i video finiti, ma con quello che c'è realmente dietro, come monto i video, come li faccio, dove nascono le idee, quindi raggruppo un po' appunto tutto quello che solitamente sta dietro le telegamere. E senti, quando ti hanno proposto, perché penso te l'abbiano proposto loro dall'agenzia, quando te l'hanno proposto come hai reagito? Paura, entusiasmo? Perché alla fine ci sono sempre questi sentimenti dentro di te, no? No, un po' di ansia, più che altro perché non è come il libro, perché tanti lo hanno anche già fatto, è un qualcosa di totalmente nuovo, tre primi in Italia a farlo, quindi eravamo un po' in ansia, però abbiamo visto che comunque sta andando molto bene, oggi è l'ultimo giorno e i pareri sono tutti positivi, quindi sono molto soddisfatta. Senti, c'è una parte in cui comunque, cioè è stata registrata, c'è un'intervista su di te, l'hai preparata, sei andata a ruota libera, ci sono stati momenti di, non so, di risate, spezza, taglia, ricominciamo? Beh, in realtà, lì si vedono circa 20 minuti, però in realtà l'intervista dura tipo tre ore, non era affatto preparata, anzi si può anche notare che a volte sono un po' ripetitiva, proprio perché è molto spontanea, è molto genuina, di conseguenza niente, in generale tutto, non è niente di preparato, tutto molto spontaneo, quello che veniva da dire si diceva. Ok, senti, un'altra domanda su di te, proprio nel documentario racconti che sei stata, diciamo, all'inizio un po' allontanata dalle tue amiche, quindi ti sei chiusa un po' dentro te stessa, per la timidezza hai iniziato a fare danza, poi c'è stato il periodo dei musicali, dei video, e quindi ti sei di nuovo richiusa, alla fine allontanandoti un po' dagli amici. Adesso come va? Che tipo di equilibrio hai trovato tra, diciamo, alla fine la tua vita da teenager e la vita di pubblico, diciamo, la vita famosa che condividi? Beh, sono maturata tanto per quello che è l'organizzatività, infatti sono bene a organizzarmi, dedico il giusto tempo alle cose, ovviamente però inizialmente ci sono stati i miei problemi perché ho dedicato troppo tempo alle amiche o troppo a quelle che erano le mie passioni, ora diciamo che riesco a non trascurare niente, ho capito come calibrare appunto il tempo, anche perché purtroppo ci sono 24 ore e quindi vanno organizzate quelle, bisogna rinunciare a tante cose ovviamente, però tutto quello che faccio sul web per cura passione mi diverso tantissimo, ma delle cose che preferisco fare, di conseguenza anche se devo sacrificare ad esempio le ore di danza, mi fa piacere. Senti, a Milano ti sei trasferita da un po', anzi per l'inizio dell'anno praticamente, l'anno scolastico, com'è andato questo ennesimo cambiamento nella tua vita? Benissimo, avevo un attimo paura perché comunque c'è una città che cambia totalmente in realtà, perché in confronto a Riva del Garda è una città totalmente diversa, è tantissime volte il doppio e di conseguenza è stato un attimo difficile ambientarmi, imparare ad utilizzare i mezzi è stato un po' un problema, ancora adesso faccio un po' fatica, perdo tram, pul, però mi trovo anche molto bene nella classe, di conseguenza il clima che si respira in generale è un clima molto bello, molto familiare, quindi mi trovo molto bene. Ok, ultimissima domanda, il libro, il tour, il documentario, cosa vuole fare adesso Elisa Maino? Diciamo che ci sono dei progetti, stiamo già pensando a qualcosa altro legato al libro, però ovviamente non c'è niente di concreto, è un po' per scheramanzia forse non si può dire, e soprattutto perché finché una cosa non è finita, finché non è certa, è meglio tenerlo per sé, per non creare aspettative che poi magari potrebbero non essere realizzate, però nel calderone c'è qualcosa che vuole. Ok, perfetto, grazie mille. Vuoi salutare anche i lettori di Cinemio? Certamente, spero di rivedervi presto, di tornare presto a Bari perché è molto bello, spero di avere più tempo anche per visitarla prossimamente. Ok, grazie, ciao.